Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Minecraft della Progetto John 3 Vimeo, tante tante cose da dire, mi sono informato abbastanza, oddio, sono un po' impazzito perché in Italia non ho trovato niente, tutto francesi, tedeschi, spagnoli, di tutto ho trovato coreani, ma in Italia gli italiani ho trovato un caso, comunque ho cercato di capire, di comprendere meglio che ho potuto, anche se certi diretti la lingua era molto stretta, era fatica da capire, però ci ho provato lo stesso e cosa ho fatto? Allora, ho capito che il mana lo possiamo usare sia per il cristallo o per usare le magie, quindi ecco per quello che mi andava l'altra volta. Allora, io sono arrivato molto in là, cosa ho fatto? Adesso vi faccio vedere. Con questo cristallo l'ho fatto tutto, ho fatto tutte le quest, sì, interessante, le cose carine, più che altro danno per difese personali. Questo cristallo qui, carino anche questo, adesso mi ricordo bene cosa faccia, però non è niente di così rilevante da poter dire. Questa invece è la cosa più bella che ci sia. Questa qui, la prima magia, tira via i pezzi di, da sotto i piedi di blocchi, questo qui ne tira via tantissimi, questo qui, non ricordo cosa faccia, però, però sì, sono interessanti, questo ti tira via un blocco 7x7. Io sono sprofondato di sotto l'ora che volavo perché è stato a morire, però è una figata. Sì, sono cose carine, però non così importanti. La cosa che mi ha parlato è questa. Questa è bellissima, perché grazie a questa, adesso, oddio, ho stato messo il jetpack, sì, perché erano le Twilight Forest. Grazie a questo, coso, adesso vado alle Twilight Forest, così mi sono già perso 50.000 volte. Vi faccio vedere, è una figata senza fine, praticamente cosa fa? Lui detecta tutti i minerali che ci sono in una certa zona, ma è una zona ampia, molto ampia. Adesso vi faccio vedere, mettiamoci qua, vedete, ha detettato 576 blocchi copper, oro e stone. Adesso, noi selezioniamo quello dopo e diciamo di cliccare e lui raccoglierà col sick touch tutto ciò che ha detettato di mineralo. E via. Taccia, boi, guardate che roba. Cioè, è una figata senza fine. Adesso questi ce l'avevo io, però questa roba qua, cioè, io direi che siamo veramente contenti e soddisfatti, anche perché io evito di farmi un sacco di beghe. Sì, lo so che abbiamo la roba che duplica, eccetera. Però, se andiamo in una zona dove c'è da raccogliere draconio o cose particolari, tipo nel Nether, che è un casino trovare la roba, o nel Land che dobbiamo prendere determinate cose, cioè, qui non dobbiamo scavare, dobbiamo fare un cazzo. Abbiamo preso tutto, cioè, è una figata senza fine. Proprio bello, bello, bello. Sono contento, va. Adesso, poi, e questo è uno. Poi, questa è la cosa più bella, ma... Allora, per fare il quest non ve l'ho fatta vedere perché sono sempre, sempre, sempre le stesse cose. Ammazza Creeper, ammazza Ragni, ammazza Zombie, ammazza Enderman e dammi oro, dammi semi, dammi libri, dammi glowstone, dammi mana infuse, mana shard, mana, insomma, queste cose qua della, della, della mod. Quindi è stata sempre, sempre, sempre la stessa cosa. A parte, per l'ultimo cristallo, che poi non è l'ultimo, che è questo rosso, che mi ha chiesto, questo qua, questo si fa facile, che abbiamo già visto come si fa, che si fa così, e questo cristallo qua si fa così, proprio quello lava classico. Una volta fatto questo cristallo, lui ci chiede di collezionare queste anime di, 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 di gente che è nel Ned. Come si fa a collezionare? Con quello in mano, primo pulsante del mouse, sopra, ah, Pigment Zombie, All Ghast, All, Magma Cube, Blaze o Skeleton, e lui lo cattura immediatamente, senza far niente, né complimenti, né nulla. Quindi ho girato, noioso come pochi, perché, cioè, più che altro, li ho trovati tutti, tranne il Magma Cube, che ci ho messo una vita, ma una vita, veramente vita, trovarlo. L'ho trovato, sono tornato dal tipo, mi ha dato il cristallo rosso, perché se no non me lo dava, cristallo rosso, che è questo, abbiamo due magie, una che accende, e quindi, e per fare la prima, abbiamo dovuto fare una cosa, allora, togliamo questo, per fare, ecco, questo qua ho dovuto fare, questo qua, una volta fatto, che è facilissimo, proprio una cacata farlo, vedete, una volta fatto questo, questo coso qua, lo mettiamo dentro al Nether, in un posto qualunque del Nether, e ci clicchiamo sopra con la nuova magia, che è quella lì, questa qua, quella del, questa, fa questo, e lui evocherà un Wither Skeletor, va, chiuso lui, questa è finita, dopo siamo tornati da lui, da lui mi ha dato questa qua, che praticamente tira delle palle, delle palle, sarebbero infocate, adesso qua non ha effetto, e ammazza, cioè ammazza, danneggia le persone vicine, e basta, per il resto, tutte le quest, tutte identiche, sempre uguali, la cosa bella, che adesso siamo saliti parecchio, continuo a darci le quest, perché, se ho capito bene, scusatemi se ho capito male, perché quel francese era veramente stretto, aveva detto che arrivare a livello 10, con queste abilità, le prime tre, forse anche la quarta, non ho mica capito, adesso la quarta, la facciamo insieme, sbloccherà le altre due task, perché ci sono altre due magie più profonde, più complesse, da fare, e quindi, è, ci vorrà un po', però dai, è noioso, però lo faccio a tempo perso, quindi va bene, ma perché faccio questo, direte che cazzo ti serve, scivai ragione, non tendenzialmente a un cazzo, però grazie a questo, abbiamo più scorta di mana, avendo più scorta di mana, guardate cosa ho fatto, il pulsante destro del mouse, l'ho caricato, abbiamo una scorta di 520, cosa vuol dire questo, che una volta che lo usiamo, da quello che ho potuto vedere e comprendere così, più scorta abbiamo, più veloce è a craftare le cose, quindi è veramente, veramente veloce, adesso vi faccio vedere, io l'ho automatizzato, molto semplice, visto che questa ha due entrate, una glielo ho messa qua, export, import, basta, export, import, basta, metti la roba qua dentro e si arrangia lui, vedete, e lo mette dentro, guardate che velocità, e questo è il secondo, ha una velocità incredibile perché ha tanto storage di mana, per questo che quando ho capito ho cominciato a fare questa rotta di collo, perché così facendo ci sbattiamo 50.000 volte in meno, molto molto veloce, automatizzato, perché è automatizzato, guardate la roba che ho fatto, ne ho fatto un sacco, molti di questi li ho trovati facendo quella cosa che mi ha fatto, vedere, che è molto più facile, poi ho preparato per fare altro, adesso li metto qua questi, perché questi ci serviranno, questi li ho preparati tutti, ma questi li abbiamo già visti, non è che mi sto dicendo cose nuove, è facile, facile farli, quindi non sto neanche a farvi rivedere tutta roba che abbiamo già visto, l'abbiamo già fatta, eccetera, li sto preparando perché dobbiamo fare quel cristallo viola, no viola, quello azzurro che abbiamo già fatto insieme, ne dobbiamo fare nove, per fare, non mi ricordo cosa, una quest che dopo ci darà, ho letto sulla wiki, e quindi l'ho preparato, già a tempo perso, ogni tanto andavo, niente di che, niente di più, niente di meno, come vedete tanta tanta roba ragazzi, tanta tanta roba, quindi riprendiamoci questo, questo qui lo mettiamo via, tac, e lo svuotiamo, shift, il pulsante destro, teniamo pronto finché non lo svuota, e l'ha svuotato, così il man ha storato, e di nuovo, diciamo, nel nostro, nel nostro, nelle nostre perle di magia, quindi adesso cosa dobbiamo fare, la quest ci dice di ammazzare gli scheletri, di ammazzare scheletri, quindi, cioè, praticamente queste due si, come dire, si completano insieme, quindi io cosa ho fatto, quando avevo solo quelle tre, perché la quarta non potevo farla ancora, molte quest erano tutte uguali, quindi ammazzavi una volta una cosa, andavi a consegnare, consegnavi tre quest a botta, quindi ho fatto presto anche in quel senso, poi spesso, spesso, spesso ci chiedevano libri, semi, glowstone, redstone, money and fuel, tutte cose che già avevamo, io con la pride la prendevo, e tanti saluti al pifero, ho fatto presto a fare quelle, la sbatti era andare avanti e indietro a ammazzare scheletri, ragni, enderman, zombie, erano un po' la palla, però l'ho fatto, dai, tempo perso, finché altro adesso c'è da ammazzare questo, e volevo andare in un posto che non mi rompesse le palle, perché se lo faccio qua mi vola via, quindi io vorrei andare con voi, se c'è il jetpack va bene, da qualche parte che non sia troppo invasivo, proviamo Lost City, ecco, così vediamo Lost City se mi dà i minerali nuovi, che magari non ho preso qualcosa, io non lo so, quindi andiamo verso la zona di Lordcraft, allora mettiamo più chunk perché se non vedo un cazzo, se no, ok, ecco, almeno così vedo, se no vedo un cazzo, la zona di Lordcraft è qua, no, mi sono sbagliato, oh ma c'è, ci sono tanti biomi mischiati, sto posto Lost City, volevo vedere, effettivamente, dovrebbe essere da queste parti, Lordcraft, eccola qua, vedere se c'è qualcosa che magari mi è sfuggito, e lo prendo così con questo bel nostro detect, tac, detectami, crystal, oh va bene, e adesso facciamo, ma ha fatto una succhiata da panico, e non ha preso un cazzo alla fine, ma porca bacca, va bene, ha preso un po' di costo, guardando se c'era effettivamente qualcosa di interessante, mi sembra di no, quindi andiamo da un'altra parte che è meglio, magari c'è qualcosa di più bello, che è meglio, così siamo a posto, che è meglio, ma è meglio, no, non chiedo, perché sono nel senso, ah, cioè non sarà troppo, e la peppa, ma cosa mi hai preso mai, mi hai preso il Wolf Maritz, quello cazzo che era, la bisaline, il litio, l'alluminio, il magnesio, il born, che dovevano aver fatto, cose che ci mancavano, il thorium, il meteorit, poca roba comunque sia, robare, beh, comunque adesso questa roba la metto tutta via, perché mi fa piacere, e, guardate il corallium, e niente, è tutto qua, adesso andiamo a, cos'è sul furo, e questo, e questo, andiamo a fare sì che è in nether, guida e scherzo, che nether, che cazzo dico, oh, guardate, c'è un fosso che potrebbe essere al caso nostro, scusate, ma già che ci sono, cioè, come faccio a fammi sfuggire questa cosa, questo cialag da panico, ma quante ne ha trovate di robe, ah, mi sa che crasha, no, non ha crashato, proprio che ci è mancato, mamma mia, cioè, ho raccolto il mondo, ah, ho finito anche l'energia, ovviamente ci è ciucciato l'impossibile, mamma mia ragazzi, questa magia è una svolta, cioè, ovviamente noi possiamo fare un sacco di roba, è vero, però, in un, magari, se l'avessi fatta prima, questa quest, queste, scusate, non l'ho fatto qua, magari avrei preso, mi sarei sbattuto meno, insomma, nel senso, ecco qua, allora, io vorrei farvi notare anche una cosa, che abbiamo preso un'abilità molto interessante, se adesso trovo il bucket, che è il night vision, che grazie a un secchio d'acqua, tac, noi abbiamo il night vision, oltre l'invisibilità, è una cosa, perché mi hai dato due volte il secchio, ma io sti bagno di capire, e quindi è una figata, certo dura poco, perché 12 secondi ogni volta che ci bagniamo, però, insomma, allora, dove voglio fare, sto opposto, allora, prendiamo il piccono, perfetto, e gli diciamo di fare un uno per due, facciamo un tre per tre, e vai, perfetto, io farei così, e proverei a farlo qua, il wither, come cazzo, allora, fatemi vedere sto cazzo di, vai, ok, me li ha tolti tutti, così almeno me li ha tolti, siamo a posto, scusate, però voglio evocarlo qua, così non dovevi avere problemi, e porca vacca, porca vacca, eh, cia boia, mi hai preso tutta sta roba, me l'ho diventato, eh, ma quanta roba, ragazzi, cioè, è una figata senza fine, ok, eh no, questo, vai così, ah, sì, sì, una svolta, una svolta, ecco qua, ok, a postolo, ah, il secco adesso è vuoto, ma porca vacca, vabbè, non importa, eh, mettiamo una candee, no, perché dopo non sono, sono visibilo, allora, io dovrei avere la, eh, mela, la è, la mela, buona, allora, c'ho quello anti-weed che lo prendo, subito, e questo, che mi dà 8 minuti di night vision, adesso mi metto qua, eh, ok, e lo evoco, allora, vediamo un po', soul, la soul, eh, eccola qua, 3, poi mi serve, questo mettiamo via, graffi, ah, mi ha fatto la graffita di dentro a me, poi devo prendere le head, di, eh, head, have, buonanotte, di, 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 tipo, come cazzo si chiamano, di, weeder, we, eccole qua, ne prendiamo tre, e proviamo a evocarlo, ovviamente io ho fatto una cacata, perché ho preso tre cose, quando, sono un SV1 o 4, perché lo sanno tutti che io non so contare, vero no, no, perché chiedo, a un certo punto uno se lo chiede, eccoci qua, proviamo e vediamo, scusate, ma come al solito ho fatto la mia cacata, ok, quindi facciamo così, così e così, io mi allontano un attico, lui non mi dovrebbe vedere perché ho il bonus, però, comunque, il weeder non lo prendo, però il danno lo si è, quindi aspettiamo un secondico, ok, vedete, lui non mi vede, però questo non vuol dire che non mi faccia male, è quello che voglio dire, ok, ok, vai, è la riunione, è una riunione proprio da panico, allora abbiamo rigenerazione, abbiamo tante cose, quindi non mi devo preoccupare, però è meglio sempre stare in occhio, ok, vai, va, 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 va adesso guardo tutto un attimo solo Merble, Gravel vai Straddle Nether questo ci interessa trofeo questo qua questo qua ci servivano tantissimo ok abbiamo fatto la cresta in teoria, vediamo cosa ci dice Ramai ok, fatta e ci dà un coso raro, ottimo perfetto io non so cosa ho fatto, ho fatto qualcosa allora ce ne andiamo via io non resisto, scusate, è più forte di me cioè, è gratis come si fa non prendo, c'è un sacco di ferro lo so che c'è roba che abbiamo, però sono qua dai, insomma mi ha ciucciato tutto cioè, almeno così dai lo so che è roba che abbiamo lo so, però ecco qua, quando è gratis, è gratis insomma ecco qui qua, qua e qui ci dà il sick touch oddio ci dà il sick touch e vuoi non prenderla, insomma anche perché ci può essere utile per altre cose adesso poi vedremo cosa questo gioco non mi ha buttato via niente ho dato lì l'iron il thorium che devo vedere assolutamente dove cazzo trovare quegli altri batteri ma che cazzo è questo vabbè andiamo pure e torniamo verso casa signora casa la sto aspettando adesso andiamo da quello là diciamo io ho fatto tutto quanto dammi la questa così a meno ci dai più mana e siamo tutti a cavallo forse ci dà anche un'altra cosa dolce casa vai ho spostato il portalo l'ho messo qua così a meno è più comodo fatemi vedere le facciamo un attimo dai facciamolo un secondo le faccio tanto è sempre la stessa cosa però dai vi faccio vedere magari la magia quella lì questa qui tac ah c'ho il jetpack mi dimentico sempre vedete cioè è una figata senza fine ma ce ne sono tante belle è solo che dopo la fine abbiamo una spada così potente che ce ne sbattiamo anche i marroni nel senso arriviamo qua facciamo così ciao siamo visibili e tanti saluti non ci dobbiamo sbattere non dobbiamo fare niente grazie al clout che abbiamo fatto siamo invisibili ok dovremmo aver finito la quest vediamo cosa dice questa è finita questa è finita questa è finita vedete quanto ci ho messo un attimo andiamo pure facciamo la cresta e siamo a posto ragazzi è a posto mamma mia una volata una volata casa dolce casa è cresciato no non è cresciato a volte è cassa c'è tanta roba da gestire vai e vediamo cosa fare beh dai sono contento sono riuscito a spiegarvi ah c'ho un antivision giusto tutto quanto dai sono abbastanza felice di questo allora ho la questa in mano si lui ce ne dà sempre ma a me mi serve per il mano me ne sbatto anche i marroni insomma nel senso ok allora vediamo un po' lui dice castor ah c'ha dato una nuova magia adesso andiamo a fare anche le altre vediamo un po' tanto ormai la sua memoria come vedete adesso ha chiesto cioè sono cose che alla fine spesso ci chiedono quindi ho fatto anche presto è la palla di farle perché è una palla però alla fine cosa ci dà ci dà un sacco di roba togliamoci tutta sta roba che se no se no dopo mi vado in crisi ok poi facciamo così facciamo così facciamo così cosa mi hai dato eh mi hai dato non ci credo così possiamo finalmente averne due cioè nel senso uno lo teniamo là e uno lo teniamo dietro così posso svuotarmi senza problemi vedete ci dà un sacco di roba ma proprio tanta allora quest fatta fatta nuova quest grazie dimmi mazzari ragni ok apriamo ecco che ci dà tanta tanta di questa roba io ho molta roba che ho nella sacca l'ho fatta per questo per fare quest ok nuova quest e tanti saluti lui ci chiede questo lui ci chiede il fire orb questo ci chiede vedete alla fine dobbiamo sempre fare le stesse cose vedete anche i 4 di questi ma ne ho fatte almeno una sessantina di questi quindi capite quante roba mi ha dato allora sì perché io ogni volta ne facevo 3 a volte 4 con questo nuovo alla volta quindi era per quello allora devo castare questa magia adesso la vediamo insieme e siamo a posto allora mettiamo a posto il cristallo intanto di mana che lo mettiamo qua così siamo a posto voglio vedere se mettendolo qua e adesso facendo così è la stessa cosa vediamo eh voglio capire scusate se no uno dice no è diverso quindi non ci serve un cazzo sto a rompo qua lo faccio andare un po' me la porto dietro di magia che potrebbe essere anche giusto ma abbiamo così tanto di magia che mi conviene farlo tutto in una volta perché questo così va molto più il 520 è tanto insomma bisogna dirlo allora mettiamo qui mettiamo qui mettiamo qua mettiamo qua e questo mi servia scusate ah vuole la nuova magia andiamo a vederla così siamo a posto e poi ci salutiamo dai così almeno abbiamo chiuso in bellezza andiamo un po' così vediamo una nuova magia eh non è male queste qui delle magie mi piacerebbe vedere quegli altri task cosa propongono perché presumo siano buoni per dover arrivare così tanto in alto con le quest vuol dire che essendo avanzato qualcosa di buono ci sarà sicuro allora devo castare ecco adesso la data ed è questa è quella nuova adesso vediamo come funziona mana ce l'ho in tasca vediamo un po' oh bello bello mi piace addirittura raggio beh dai sono contento che figata questa è una magia un po' più per il verso diciamo così vedete sicuramente meglio poi comunque siamo invisibili cioè una magia da raggio così è una figata non dico che ammazziamo il caotto in drago perché vedete una cacata grossa come una casa però dai interessante vedete io da lontano faccio tutto quello che voglio vediamo 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 ammazzati ammazzati fatta fatta cioè io non ho niente da dirvi solo che vedete adesso vado a consegnare quattro quest e sono venti di mana cioè scusate quattro quest sono dieci venti di mana cioè eh non è mica poco venti di esperienza non di mana scusate però non è poco lo stesso piano 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 faccio un altro po' di livelli cerco di salire e niente ragazzi faccio così per un po' così nel prossimo episodio o andiamo avanti vi faccio delle novità che tanto ce ne saranno e quindi di niente questo è sempre il solito cosa facciamo così facciamo così vedete che ci chiede il mana infuse cioè spesso non devo neanche andare a ammazzare la gente perché lui mi dice sempre cose più interessanti adesso mi ha dato questo qua vedete questo qua cioè vedete è tutto così è sempre così questa nuova ok fammi vedere vuoi questo ecco questo è quello che dicevo io che chiedeva stabilizzare così vediamo un attimo eccolo qua e servivano questi vedete e perciò avevo detto vado li ho già preparati che così serviranno quindi avete visto che li ho preparati sono 9 9 per 9 no 9 per 8 non basta devo fare degli altri va bene li farò e nel prossimo episodio vi dirò quindi ragazzi come al solito vi vito lasciate un like un commento se vi piace a serie e di farvi sapere cosa ne pensate per la sua vita assoluta la sciva ciao ciao